Scelte tecniche sono abbastanza forzate, diciamo così, anche perché la realtà di Luserna è molto piccola, di conseguenza non è che ci fosse un bacino d'utenza tale da poter fare delle scelte. L'idea era quella di venire qui, portare comunque sempre il nome di Luserna, la minoranza cimbra comunque, di tra virgolette aiutare comunque i più giovani soprattutto a far gruppo, a far qualcosa, un'esperienza nuova, un'esperienza interessante comunque, che li faccia comunque anche crescere. Poi noi veniamo fondamentalmente per essere i più simpatici. Sicuramente Vino più simpatico, dopo rompi i coglioni da quanto lungo che l'è. È un bel gruppo, tutto sommato mettiamo, in realtà sono tre compagnie diverse del paese, di tre età diverse. Allora se io devo parlare a livello calcistico, le persone su cui punto di più sono i ragazzi che comunque giocano a calcio, che attualmente sono otto in rosa, su 20 giocatori ce ne abbiamo otto che giocano a calcio a buoni livelli, mettiamola così. Gli altri sono tutti ragazzi che comunque si sono aggregati per voglia di aggregarsi, per voglia di stare tutti insieme. I più vecchi sono quelli che stanno un po' trainando. Adesso mi aspetto che comunque anche dopo questa esperienza quelli più giovani, che magari sono un po' più impauriti a livello agonistico, mettiamola così, prendano un po' di coraggio e quel famoso orgoglio cimbro di cui si parla tanto e che lo facciano vedere comunque nella prossima edizione. Ok, che categoria giochi tu? Femminile! A livello tecnico non potevamo competere con nessuno, indipendentemente dal risultato finale che poi è quello che è. Comunque per la terza volta consecutiva andiamo a casa non sfigurando perché comunque un punto almeno l'abbiamo fatto e se l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto solo di orgoglio, solo per dimostrare che comunque saremo anche piccoli ma non siamo gli ultimi neanche. Grazie. Dai ragazzi, col sorriso! Dai ragazzi, col sorriso! Ciao! 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 Ciao!